Ciao a tutti, come agiscono i manipolatori? I manipolatori agiscono ricattando emotivamente. Ti ricattano emotivamente e quindi ti fanno fare delle cose che tu non vorresti fare. Quali sono i ricatti che mettono in atto i manipolatori? Beh, i manipolatori utilizzano quattro tipologie di ricatto. La prima è quella del senso di colpa, cioè ti fanno sentire in colpa, cioè ti fanno percepire direttamente o indirettamente che se tu farai una certa cosa o non farai una certa cosa, farai soffrire una persona a te cara, che potrebbero essere loro. Ad esempio, una madre che dice al figlio, figlio mio, vattene pure in vacanza con i tuoi amici, non avere problemi. Non pensare alla tua povera mamma che è qui da sola a Natale e magari è l'ultimo Natale che passa perché ormai sai che la tua povera mamma è già anziana, ma tu vattene pure tranquillamente a divertirti con i tuoi amici. Questo è un bel senso di colpa che ti fa venire ed è una manipolazione, ovviamente. Quindi il senso di colpa è una situazione che utilizzano molto spesso i manipolatori. Un'altra situazione che utilizzano spesso i manipolatori è la disistima, cioè ti fanno sentire inadeguato, ti fanno sentire inadeguato a fare le cose, incapaci praticamente. E ti hanno detto, vabbè ma fai questa cosa, guarda che rischi, tu non sei mica in grado di fare questa roba. Ti metti in questa impresa, cioè rischi di avere un tracollo, insomma. Quindi cercano di farti sentire, di dirti tu non vali niente, tu non vali niente. Alimentano la tua disistima, tu non vali niente. E quindi tu hai paura, se tu sei sensibile al fatto di credere di non valere niente, è ovvio che hai difficoltà, avrai difficoltà a superare questa situazione. E quindi resterai vincolato lì in quella situazione. Quindi il primo è il senso di colpa, il secondo è la disistima, la terza è usano l'abbandono affettivo. Se fai questo me ne vado. Se tu sei particolarmente sensibile all'abbandono affettivo, quindi farai delle cose, magari non te lo dicono esplicitamente, però ti fanno capire che se tu fai questo, cioè loro si allontaneranno da te, ti lasceranno solo. Guarda, io non posso seguirti in questa cosa, se tu prendi questa strada, le nostre strade si separano. Ad esempio, tu vorresti andare a fare un altro lavoro all'estero, magari per sei mesi, che ne so. E il tuo compagno o tua compagna, per non farti andare, ti dice, guarda, io non posso stare sei mesi, se tu te ne decidi di andare, finiamo qua la relazione, che sei visto, sei visto, insomma, io non accetto questa cosa. Se tu temi di essere abbandonato da questa persona, magari rinunci al tuo passarsi sei mesi all'estero e quindi per paura di essere abbandonato. Questo è un altro ricatto emotivo. E il quarto punto è il giudizio negativo, che ti esprimono... Certo che sei proprio uno che fa, insomma, fai sempre gli stessi errori, commetti sempre gli stessi sbagli. Vuoi ancora... Io te l'avevo detto che non dovevi fare quello. Tu continui a insistere, ti giudicano. Io sono l'unica persona che ti può capire. Tu devi apprezzare quello che io faccio per te. Devi fare questo, devi fare quell'altro. Ti giudicano ogni cosa che fai. E tu... Io non pensavo di avere a che fare con una persona, con un uomo o con una donna così. Così superficiale, che non guarda questo, che non guarda quello. Certo che sei una persona superficiale. Insomma, tutta una serie di giudizi che esprimono che cercano di manipolarti, cercano di rovinarti la vita in qualunque modo, insomma. L'unico modo per salvarsi dai manipolatori è quello di non accettare i ricatti. Non devi assolutamente accettare nessun ricatto, perché nel momento in cui accetti un ricatto sei fregato completamente. Quindi, se uno ti fa vivere il senso di colpa, dicendo, se mi lasci, mi ammazzo, guarda... E quello è il modo di far vivere il senso di colpa? Tu gli dici, sì, fammi sapere dove, che io vandrò da un'altra parte, perché non mi interessa l'argomento, insomma. Quindi non vanno accettati questi ricatti. È l'unico modo di uscire fuori dalle manipolazioni. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!